Inoltre l'inaugurazione di una semplice piazza, questa è un'operazione importante sul patrimonio della regione dell'Umbria e dell'università. Le amministrazioni sia la regione sia l'università hanno pensato una formula molto innovativa che non era la semplice dismissione dell'ex patrimonio sanitario che è stata un po' la storia della sanità in questa città e anche nella regione ma di metterla a valorizzazione attraverso anche un'operazione importante di riqualificazione. Il fondo che è stato gestito da BNP Paribas è stato un fondo anche innovativo, hanno lavorato con attenzione anche a tutti gli aspetti tecnici della riqualificazione urbana in stretta collaborazione con il Comune di Perugia e con la Soprintendenza e Beni Culturali e viene dato un contributo diretto della regione in termini anche di valorizzazione finanziaria di un'area che rappresenta un luogo importante per la città di Perugia perché è prossimo al centro storico, perché ha un significato sociale e culturale rilevante. Poi la regione è direttamente impegnata perché all'interno della nuova Monteluce troveranno spazio due investimenti diretti della regione Umbria uno attraverso il servizio sanitario con il trasferimento di servizi sanitari territoriali da parte dell'Asla 1 di Perugia e dall'altro attraverso una locazione in affitto di uno degli immobili che sono in corso di realizzazione che ospiterà gli studenti universitari e daremo risposte anche a quell'offerta di qualità dei servizi universitari in modo particolare anche per gli studenti stranieri dell'università per gli stranieri, per i ricercatori, i docenti che vengono per brevi periodi anche nella nostra regione e nelle nostre università quindi stiamo dando un contributo rilevante alla riqualificazione di un'area importante della città di Perugia lo facciamo anche nell'interesse del quartiere poi ringrazio in modo particolare i privati che sono i veri investitori con le attività commerciali e l'edilizia residenziale che ovviamente darà una nuova vita e una nuova funzione a questo che per 99 anni è stato un luogo di ospedale e attività didattica e universitaria della Facoltà di Medicina